Ciao ragazzi! Volevo farvi gli auguri per il primo anniversario del fan club dei Regeneration. Buon compleanno! Io riconosco bene i Regeneration, sono una band che suona la nostra musica con passione, col cuore e spero che possa capitare in futuro, magari per il venticinquesimo anniversario, di ritrovarci insieme a festeggiare il fan club dei Regeneration. Per ora vi saluto, un abbraccio, devo andare a lavorare, sta uscendo!